Una cosa importante ha detto, cioè che non ha nessun impegno per fare un milione di veicoli. Quello che ha detto invece è datemi i soldi, di fatto. Tra l'altro ha mostrato due slide dicendo ma vedete io qui ho tutti i modelli per ogni fabbrica. Allora gli ho fatto dire dal Presidente se li lascia quei due slide e non li ha lasciate. Ancora una volta dimostra che l'approccio di Tavares, anche molto arrogante, è quello di venire e di rimangiarsi tutto quello che è stato detto prima, ricominciare da zero e dire se vabbè io mi siedo però intanto voi mi date gli incentivi. Tutto questo è inaccettabile e noi continueremo a chiamare John Elkan qui. Perché Elkan che era stato chiamato è scappato, non è venuto, ma la garanzia di 6 miliardi e 3 noi l'abbiamo data a Elkan, cioè a FCA. E le garanzie le ha date Elkan che oggi non è qui. Elkan parlava a nome di...